Variante Delta aumentano i ricoverati al Covid Hospital di Ribera, sono 19, 6 quelli in terapia intensiva, si abbassa l'età dei pazienti, quasi nessuno è vaccinato. Il direttore sanitario Cascio dice che ha fatto le due dosi di vaccino, non si ammala. Situazione invariata sul fronte ai nuovi contagi, continua a preoccupare la situazione a Caltabellotta, ma diversi altri comuni sono pronti ad uscire dalla lista dei Covid Free. Si temono ulteriori incrementi di positivi e di ricoverati. La crisi idrica che Sciacca sta attraversando impone soluzioni immediate, lo ha detto oggi il presidente di ConfCommercio Giuseppe Caruana, che suggerisce al sindaco Valenti la requisizione dei pozzi e la gestione diretta del servizio idrico. E mentre Francesca Valenti tenta di negoziare una soluzione con giudice delegato e curatori fallimentari di Girgentiacque, annunciata per domani all'Assemblea dei lavoratori del servizio idrico, inevitabili ulteriori disservizi in arrivo. Raccolta differenziata, il comune di Villa Franca Sicula al secondo posto, tra i comuni ricicloni, seguono Calamonaci e Lucca Sicula, si tratta di municipalità dove sono stati prodotti meno di 75 kg di rifiuti all'anno per abitante. Si svolgerà online quest'anno la caccia al tesoro fotografica Life Memorial Fabrizio Priro, decisione per garantire continuità all'iniziativa dell'Associazione L'altra Sciacca, rispettando le regole imposte dall'emergenza Covid. Un cordiale benvenuto, ben trovati su Telemonte Cronio per un nuovo appuntamento con l'informazione. I numeri dei nuovi contagiati alla variante Delta del Covid-19 aumentano più velocemente dei dati contenuti nel bollettino dell'Asp. All'ospedale di Ribera, infatti, i ricoverati effettivi sono già 19, 6 più del dato ufficiale. Covid hospital sotto pressione con un abbassamento dell'età dei pazienti, tra i quali ci sono pochissimi vaccinati e peraltro solo con la prima dose. Il servizio di Massimo D'Antoni. Anche se l'ultimo bollettino dell'Asp diramato questa mattina indica 13 posti letto occupati, in realtà sono già saliti a 19 nelle scorse ore ricoverati al Covid hospital di Ribera. Lo ha confermato stamattina il nostro telegiornale, il direttore sanitario del Fratelli Parlapiano, Salvatore Cascio. I ricoveri sono aumentati e molti di questi sono impecabili alla variante Delta. E' anche vero che c'è stata una riduzione di attenzione da parte della popolazione, nel senso che c'è poca prudenza rispetto al passato. Invece non bisogna abbassare la guardia. Sono 13 le degenze ordinarie, mentre è salito a 6 il numero di ricoverati in terapia intensiva e l'età dei pazienti si sta notevolmente abbassando. Tra i ricoverati in rianimazione infatti c'è anche un cinquantenne, mentre in degenza ordinaria ci sono anche una persona nata nel 1991 e un'altra di 45 anni. La variante Delta dunque sta peggiorando la situazione in tutto il territorio agrigentino. Quasi nessuno dei nuovi ricoverati è vaccinato. Chi lo è? Ha ricevuto solo la prima dose. Tra queste persone ricoverate ci sono persone non vaccinate? Certo, la maggior parte di questi è persone non vaccinate. Questo l'abbiamo già verificato sia in passato che anche in questa fase della pandemia. E si può dire anche che l'età dei ricoverati si sia abbassata rispetto allo scorso anno? L'età si è notevolmente diminuita. La fascia media è quella dei 50-60 anni. La fascia media è la fascia media, ma abbiamo anche gente molto più giovane ricoverata. Situazione fronteggiabile, ma ci aspettiamo altri ricoveri, ha ammesso il dottore Cascio, il quale ha invitato la comunità a non sottrarsi dalla vaccinazione. E in tale direzione Cascio annuncia che ci sono comuni che hanno già raggiunto il 75% della popolazione vaccinata. Abbiamo comuni come il comune di Ruccasicolo e il comune di Burgio che hanno raggiunto già una percentuale del 75% di popolazione. Si dice che già siamo quasi a un'immunità di comunità. Se tutti gli altri comuni seguono questo esempio, è chiaro che noi ci difenderemmo meglio. Mentre ci sono purtroppo altri comuni in cui la percentuale scende drasticamente al 59-60%. E poi l'invito principale alla popolazione è quella di vaccinarsi. Che le risulti ci sono soggetti che dopo la prima dose hanno deciso di non proseguire con il richiamo? C'è qualche caso sporadico. Nella estregrande maggioranza dei casi invece la gente risponde dopo la prima dose al richiamo. Viene del richiamo. È chiaro che queste sono manifestazioni individuali che è difficile anche da governare. Il consiglio è di fare la vaccinazione completa, anche perché in quei pochi casi di persone vaccinate che hanno preso il Covid, io parlo per lo stadio di Ribera, sono solamente coloro che hanno fatto la prima dose. Non ci sono ad oggi soggetti con vaccinazione completa che hanno preso il Covid. Siete preparati alla possibilità di un ulteriore incremento di ricoveri? Sì, siamo preparati. Siamo in grado di, in un bravissimo tempo, di aumentare i costi elettronici. Situazione invariata sul fronte dei nuovi contagi in provincia di Agrigento. Secondo i numeri forniti dall'ASP nel bollettino diramato questa mattina, desta sempre preoccupazione la situazione di Caltabellotta, ma iniziano a temere un nuovo incremento di positivi anche diversi comuni che non sono più Covid-free. C'è il servizio. Una tregua solo apparente, quella del contagio in provincia di Agrigento. Nessun nuovo positivo nel report diramato questa mattina dall'azienda sanitaria provinciale, ma con riferimento ai tamponi della giornata di domenica, appena 128. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono invece 457. Da un lato la conferma di come sia stato necessario incrementare il tracciamento, dall'altro il timore legato al possibile esito positivo di molti di questi tamponi. Il comune di Caltabellotta attende con il fiato sospeso l'esito di una quindicina di tamponi effettuati su soggetti già risultati positivi al test rapido, contatti diretti delle 23 persone ufficialmente contagiate ad oggi che hanno fatto accendere i riflettori sul piccolo comune montano che rischia sempre la zona rossa se il focolaio dovesse ulteriormente allargarsi. Negli ultimi giorni, peraltro, diversi comuni non sono più covid-free e seppur al momento registrino un solo caso di positività, il campanello di allarme è già scattato dopo settimane in cui era prevalsa l'illusione di un'estate senza contagi. A Menfi la persona risultata positiva al coronavirus, l'unica al momento è stata ricoverata in ospedale e si attende l'esito di 15 tamponi molecolari già effettuati ai contatti diretti. Analoga situazione a Lucca, Sicula e Cianciana, mentre Sambuca è passata da 0 a 2 positivi. Sempre 12 contagiati a Sciacca e 3 a Ribera. 14 i comuni rimasti covid-free sono Santa Margherita Belice, Villa Franca Sicula, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Montevago, Montallegro, Iopolo, Giancazio, Grotte, Comitini, Cattoli, Caraclea, Castrofilippo, Calamona, Ciburge e Bivona. Negli altri il contagio varia, da pochi casi fino ad arrivare agli 83 attuali positivi di Palma di Montechiaro, ai 61 di Favare e 47 di Agrigento. Il report diffuso dall'azienda sanitaria provinciale riporta una sola guarigione avvenuta nel comune di Licata, dove ad essi i positivi sono 15. Sul fronte ricoveri, come abbiamo ascoltato dal direttore sanitario del Covid Hospital di Ribera, la situazione aggiornata vede occupati 19 posti letto complessivamente, 6 dei quali in terapia intensiva rispetto ai 13 ricoveri riferiti nel bollettino dell'ASP. Da evidenziare infine che la scorsa settimana erano 233 i positivi in tutta la provincia di Agrigento, mentre al 19 luglio sono adesso 445 i contagiati e senza tener conto delle guarigioni che pure ci sono state. Un incremento in linea con quello registrato in tutta l'isola. Nell'arco di una settimana i nuovi contagi in Sicilia sono stati 2.206, il 99,5% in più rispetto a sette giorni prima, quando già si era registrato un incremento del 36%. La morte dell'avvocato Vincenzo Bellomo, 59 anni di grotte, avvenuta all'indomani del vaccino anti-Covid. Secondo la relazione tecnica consegnata dall'ASP di Agrigento alla Procura della Repubblica, non c'è alcun nesso tra la morte del professionista e la somministrazione della seconda dose del vaccino. La Procura di Agrigento non disporrà all'esecuzione dell'autopsia e a breve la salma sarà consegnata ai familiari. L'indagine era stata avviata a seguito dell'esposto presentato dai familiari di Vincenzo Bellomo per, alla fine, di appurare una eventuale correlazione tra la seconda dose, il vaccino Pfizer e il decesso. L'azienda sanitaria ha attivato il protocollo e messo nero su bianco che non c'è stata alcuna correlazione tra il decesso e la somministrazione del vaccino. Per i medici dell'azienda sanitaria il decesso è legato ad un insufficiente afflusso di sangue al cervello dovuto all'ipertensione. Siamo alla cronaca, due arresti e quattro denunce a Ribera nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della locale tenenza in manette un giovane di 22 anni ricercato da alcuni mesi perché deve scontare una pena per reati contro il patrimonio e un 26enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Sentiamo. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato un 22enne di origine rumena residente nella città crispina colpito da un provvedimento restrittivo. Deve scontare la pena di 5 anni e un mese di reclusione per avere commesso a Sciacca e Ribera gravi reati contro il patrimonio tra il 2017 e il 2019. Alla cattura del giovane ricercato dal maggio scorso si è giunti grazie all'intuizione di un militare della tenenza di Ribera che libero dal servizio ha riconosciuto l'uomo mentre furtivamente entrava nel suo domicilio. A quel punto ha chiamato rinforze e così i carabinieri circondato l'appartamento e precluso ogni possibilità di fuga ricercato hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato. È stato associato al carcere di Sciacca. Sempre a Ribera i carabinieri hanno arrestato un 26enne del posto trovato in possesso di un grammo di hashish e due grammi di cocaina. È stato fermato per strada ma l'atteggiamento del giovane ha portato ai militari dell'arma ad effettuare una successiva perquisizione nella sua abitazione che ha portato al rinvenimento di altri 15 grammi di cocaina oltre ad una pistola detenuta illegalmente e a due proiettili calibro 38. Per lui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma è stato posto agli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli con posti di blocco effettuati sia nel centro abitato sia nelle località balneari. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno infine ritirato quattro patenti ed elevato sanzioni per un importo di 1000 euro. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. Sempre più problematica la gestione del servizio idrico in provincia di Agrigento. La novità dell'ultima ora è relativa ad un'assemblea sindacale indetta dai lavoratori ex Girgentiacque e Idortecne per l'intera giornata di domani. È quanto ha comunicato la gestione commissariale a tutta l'utenza grigentina a fronte degli scontati problemi che si prevedono nell'erogazione del servizio. Quel che si temeva si sta materializzando. Dopo la protesta ieri delle imprese addette alla manutenzione delle reti idriche e fognarie, domani si fermerà tutto il personale impiegato nella gestione del servizio idrico. Un'assemblea indetta dai sindacati che già da settimane esprimono forte preoccupazione sul futuro dei lavoratori, ma anche sulla problematica gestione del servizio, posto che il 2 agosto cesserà l'incarico del commissario Gervasio Venuti e l'azienda idrica Comune Agrigentini, pur essendo stata costituita, non è ancora operativa. A tutto ciò va aggiunto il problema principale, quello economico, legato al fallimento di Girgentiacque. Questione al centro proprio oggi di un incontro tra il presidente del Lati, Francesca Valenti, il giudice delegato e la curatela fallimentare. La crisi idrica che la città di Sciacca sta attraversando impone soluzioni immediate, così oggi il presidente di Confcommercio, Giuseppe Caruana. Il danno di immagine è incalcolabile, dice, occorre subito requisire i pozzi e gestire direttamente il servizio idrico. Seguiamo il servizio. Crisi idrica a Sciacca cresce anche l'esasperazione delle attività commerciali e dei titolari delle strutture ricettive, costretti a subire i disservizi nell'erogazione pur pagando regolarmente le bollette recapitate per altro, giusto in questi giorni. E il presidente provinciale di Confcommercio, Giuseppe Caruana, al nostro telegiornale a dire che la misura è colma e che non si può attendere oltre. L'amministrazione intervenga subito attuando la gestione diretta, dice il rappresentante del comparto commerciale. Le rassicurazioni oggi non servono più a nulla. Non vi preoccupate, l'acqua non mancherà, non ci saranno problemi, ci sarà una gestione. Il problema c'è già. Perché il problema c'è, ovunque c'è. Intanto già da diverso tempo abbiamo un'erogazione che si è allungata nelle tornazioni dei giorni, ma con una quantità di acqua nettamente inferiore a quello che avevamo fino a qualche tempo fa. E questo già di fatto è un problema. Se a questo si aggiunge che dal giorno 2 agosto probabilmente non ci sarà più una persona che governerà questo processo, io penso che bisogna agire con determinazione, se è il caso con le comprese di posizioni forti. Se il sindaco ha dichiarato noi non rischiamo, perché il comune è pronto in ogni caso ad attuare chiamiamolo piano B, cioè la gestione diretta. Lei come vede questa dichiarazione? Io penso che già da adesso dovremmo essere eventualmente pronti a prendere le redini in mano dei pozzi carboy che noi abbiamo sotto la nostra giurisdizione territoriale e che quindi possano darci un minimo di tranquillità e di sicurezza. Certo, si pone il problema di come gestire con gli altri comuni il rapporto rispetto a questa distribuzione, però già da oggi dovremmo essere operativi da questo punto di vista, dovremmo già essere pronti a prendere in mano la gestione materialmente, perché qui il problema è poi della gestione vera e propria del servizio trovando gli equilibri per poi avere un rapporto con gli altri comuni che si servono anche della nostra attrazione. Qual è il danno che stanno avendo le attività del centro? Anche i numerosi B&B, le strutture ricettive? Qui è un danno intanto alle attività produttive, naturalmente la popolazione in genere alle attività produttive che in un momento di questo genere in cui si stava ripartendo, adesso ci ritroviamo con un problema aggiuntivo, come se fossimo usciti da una situazione brillante, diciamo vabbè non vi preoccupate, siamo usciti da un anno e mezzo di macerie e apriamo il rubinetto e non troviamo l'acqua e poi di fatto secondo me c'è un danno di immagine alla città che si stava rilanciando anche da un punto di vista proprio dell'aspetto turistico, voi pensate che i turisti che arrivano in un B&B o in una struttura ricettiva qualsiasi e aprono il rubinetto e non trovano l'acqua oppure il gestore dovrà dire scusatemi ma non c'è acqua, che figura ci possono fare e quei turisti ritornano a Sciacca o ovunque in questo momento della provincia d'Agricento, sicuramente il danno è devastante da questo punto di vista, quindi bisogna agire immediatamente, bisognava già essere operativi secondo me, ma siccome siamo ancora in tempo, facciamolo adesso. La questione girgenti-acque deve essere risolta al più presto, corre nell'immediato dare risposta ai cittadini, il governo regionale si deve attivare nel più breve tempo possibile con risoluzioni straordinarie e tempestive, così Filippo Perconti, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, a margine dell'incontro avuto ieri con le imprese creditrici sostenute dalla CNA di Agrigento che si occupano della gestione del servizio idrico e delle attività di manutenzione, imprese che ieri sono tornate a protestare, hanno maturato crediti molto rilevanti con girgenti-acque e sono prossime al rischio di fallimento. Il parlamentare Perconti ha auspicato un intervento celere e decisivo della regione per evitare momenti di tensione sociale. Copiosa perdita idrica in via Dante Alighieri a Sciacca con l'acqua che fuoriesce addirittura dalle cavità presenti da un muro di sostegno collocato a bordo strada. Tra le segnalazioni di oggi anche quelle riguardanti due griglie metalliche in via De Gasperi e in via Ferraro che anziché essere sostituite sono state transennate. C'è il servizio. Per la rubrica dedicata alle vostre segnalazioni ci occupiamo oggi dei disagi che insistono in via Dante Alighieri a Sciacca. Da diverso tempo persiste una copiosa perdita idrica che si riversa sul manto stradale creando disagi a tutti i conducenti dei veicoli a motore. La particolarità, per così dire, è quella che questa perdita fuoriesce persino da alcune cavità di un vicino muro di sostegno causando al tempo stesso il proliferarsi di insetti e la crescita di vegetazione spontanea. La situazione sembra essere piuttosto delicata posto che tutta quest'acqua potrebbe incidere sulla resistenza del manufatto in cemento. Un controsenso quello che si vive giornalmente in via Alighieri proprio in un momento in cui, per le note vicende societarie, l'acqua sembra essere poca e andrebbe usata in modo migliore. Nella stessa zona i residenti segnalano pure la mancata o parziale potatura di una palma i cui rami invadono abbondantemente la carreggiata. Le fronde occludono la vista e molti automobilisti, per schivarle, si immettono praticamente nella corsia opposta con manovre pericolose, in una strada già piuttosto ristretta a causa delle auto in sosta sia a destra sia a sinistra. I residenti chiedono a chi di competenza di intervenire, tanto per riparare questa ingente perdita idrica, quanto per eseguire la potatura della palma, evitando il rischio di incidenti stradali. E ci spostiamo in via Messina, arteria laterale di via Mazzini. Da mesi un cedimento del manto stradale ha determinato la consueta collocazione di transenne, senza che a questo sia eseguito nessun altro intervento di nessun tipo. La via, già piuttosto angusta, si è ristretta ancora di più, determinando la perda di alcuni posti auto e difficoltà nel transito veicolare. In questa zona abitano anche soggetti diversamente abili e nemmeno l'ambulanza riesce a passare. Chiaramente i residenti chiedono all'amministrazione comunale di inviare in via Messina la squadra di pronto intervento, per rimuovere il pericolo e soprattutto per rimuovere gli ostacoli. Sempre a proposito di transenne, ce ne segnalano altre due, una in via De Gasperi, poco sotto l'area cimiteriale, e un'altra in via Ferraro. Ambe due sono state collocate su griglie metalliche, quelle idonee per il deflusso delle acque meteoriche, che avrebbero bisogno di essere sostituite. Essendo piuttosto sollecitate dal costante passaggio delle auto, le due griglie si sono deteriorate e andrebbero cambiate con delle nuove. Finora niente di tutto questo. Più semplice e più economico mettere una transenna e deviare il traffico, senza programmare null'altro. Il comune di Villa Francasicola, stando ai dati di lega ambiente, si è piazzato al secondo posto nel 2021 nella classifica regionale dei comuni ricicloni, quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, al terzo posto Calamonaci e al quarto Luccasicola. In questi tre comuni egrigentini si sono prodotti meno di 75 kg di rifiuti all'anno per abitante. Sentiamo. I comuni di Villa Francasicola, Calamonaci e Luccasicola si sono piazzati rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto nella classifica di lega ambiente per il 2021, riferita ai comuni fino a 5.000 abitanti. Tutte e tre i comuni egrigentini fanno parte dell'Aro Alto Verdura e Gebbia, insieme a Burgio, che anch'esso ha ottenuto risultati lusinghieri. Nel 2021 Villa Francasicola e Calamonaci hanno sfondato il muro del 90% di raccolta differenziata, mentre Lucca si trova poco dietro. Per la cronaca, al primo posto si trova Longi, comune del Messinese. In questi territori si sono prodotti meno di 75 kg di rifiuti all'anno per abitante. Sì, diciamo che continua la tradizione degli ultimi anni, dove vede sempre Villa Francasicola ai primi posti della classifica regionale, al primo posto della classifica provinciale per la raccolta differenziata. Questo sicuramente è un grande obiettivo raggiunto. per cui dobbiamo dire grazie ai nostri concittadini che con grande impegno cercano di favorire la raccolta differenziata, agli operatori e un po' ai gestori del servizio. Per quanto riguarda la vostra raccolta, avete superato il 90%, sembra un obiettivo impossibile, ma come colmare ancora ulteriori step per arrivare magari al 100%? Certo, questo sarebbe una cosa importantissima, riuscire ancora a aumentare quel livello, quel 90%, però sai, ci sono ancora delle diffidenze da parte di alcune persone che a livello culturale non hanno ricevuto il messaggio che differenziare è importante per tutta una serie di cose, magari come in ogni posto e come in tutti i comuni si trova poi il vandalo che abbandona la differenziata o che cerca di non farla in modo corretto. Però sono convinto che magari con l'ausilio delle scuole, delle nuove generazioni, questo sia un obiettivo che possiamo raggiungere, una percentuale che sicuramente si può aumentare. Un'ultima considerazione, voi come Aro alto per due EGB state lavorando molto bene perché tutte e quattro i comuni hanno risultati ottimi. Sì, sì, diciamo che tutte e quattro i comuni hanno raggiunto percentuali importanti, sicuramente la gestione dell'Aro che gestisce il nostro Aro ha tantissime professionalità e competenze e quindi cerca di utilizzare quegli accorgimenti che possano sempre fare migliorare le percentuali della nostra raccolta con degli accorgimenti che magari in un comune o in un altro comune possono essere differenti ma sicuramente poi fanno la differenza nella differenziata. Si svolgerà online la caccia al tesoro fotografica Life Memorial Fabrizio Piro, una nuova modalità nata dall'esigenza di dare continuità al progetto e al tempo stesso rispettare le regole dettate dall'emergenza Covid. Le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 22 luglio. Sentiamo. Dopo un anno di pausa torna la caccia al tesoro fotografica Life Memorial Fabrizio Piro. Lo staff di Life infatti ha organizzato quest'anno una caccia al tesoro in una veste del tutto nuova pur di dare continuità al progetto guardando con ottimismo l'arrivo di tempi migliori per attuare le vecchie modalità. La caccia al tesoro di quest'anno sarà infatti online e si svolgerà dal 23 al 25 luglio. Le squadre partecipanti riceveranno via mail alle ore 18 del 23 luglio gli indizi da decifrare ed avranno tempo fino a domenica per andare a fotografare gli obiettivi. Questi ultimi dovranno poi essere postati su un account Instagram di un componente della squadra per essere valutati successivamente dalla giuria. Non sarà una gara di velocità ma stavolta a vincere saranno le squadre che avranno indovinato gli obiettivi e che al contempo avranno scattato le foto più belle. Niente raduno di presenza quindi ma sicuramente un'esperienza diversa che non farà mancare un po' di sano divertimento. Per le iscrizioni c'è tempo fino alle ore 18 di giovedì 22 luglio e stavolta non c'è il limite al numero di squadre che potranno partecipare. Il progetto Life proseguirà successivamente con il challenge Instagram il cui tema sarà svelato in occasione della caccia al tesoro. Il progetto Life è organizzato dagli amici e familiari di Fabrizio Piro, dal club fotografico amatoriale L'altra Sciacca Foto, dalla community Instagram Eigers Agrigento con il patrocinio del comune di Sciacca. La comunità di Menfi tra cittadini e scout ha donato tre tonnellate di tappi alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte. I proventi ricavati dalla loro vendita serviranno a finanziare i centri che nel Palermitano si sono occupati di fornire un pasto caldo e un tetto, ahimeno fortunati. Sentiamo. Sono state consegnate tre tonnellate di tappi per la missione Speranza e Carità di Fratel Biagio Conte raccolti dalla comunità di Menfi in circa due anni. A ritirare i tappi sono stati i vigili del fuoco di Agrigento che hanno messo a disposizione il loro mezzo di trasporto, un rappresentante del gruppo Agesci Agrigento 6 e un delegato della missione di Fratel Biagio. I ragazzi dell'oratorio San Domenico Savio, il gruppo Masci Menfi 2 con il patrocinio del comune di Menfi si sono adoperati per la consegna dei 150 sacchi di tappi raccolti durante questi ultimi due anni. Un momento di forti emozioni per coloro che hanno attivamente sostenuto la fondatrice del gruppo di raccolta tappi a Menfi, Fina Marrone, da poco venuta a mancare. Durante la Santa Messa in Chiesa Madre i fedeli hanno assistito ad una breve testimonianza del delegato di Fratel Biagio e un saluto del sindaco. La raccolta tappi continuerà ancora presso l'oratorio San Domenico Savio i mercoledì dalle 18 alle 19 durante il periodo estivo, nelle chiese durante le Santemesse, all'ex Sogeir e presso le isole ecologiche Portopalo e Fiori. La raccolta tappi per Biagio Conte è stata un'iniziativa accolta con speranza da parte di tutti i cittadini che hanno contribuito e sostenuto il sogno di raggiungere una fattiva quantità di tappi. Grazie alla loro vendita ad una ditta specializzata vengono infatti sostenuti centri che nel palermitano si occupano dei bisognosi fornendo loro un tetto e un pasto caldo. Saghe familiari e castelli nella sciacca medievale Luna e Iperollo, un momento tra riletture di eventi e personaggi di un periodo storico e importante della città e rievocazioni musicali. Si svolgerà questa sera con inizio alle ore 20 nell'atrio superiore del Palazzo Comunale. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Salvatore Cantone con il patrocinio del Comune di Sciacca. Il convegno si avvarrà delle relazioni, degli studi e delle scoperte degli storici Antonino Ciaccio e Angela Scandaliato. Sono previsti gli interventi del Sindaco Francesca Valente e del Presidente dell'Associazione Cantone Rosa Castagno. Cultura si è svolta ieri al Comune di Sciacca la prima serata della rassegna Le parole che non ti ho letto. Vediamo. Si è svolta ieri sera all'interno dell'atrio superiore del Comune di Sciacca la prima delle 15 serate della rassegna dal titolo Le parole che non ti ho letto, voci e note per letture drammatizzate, manifestazione promossa dalle associazioni Teatro Oltre e Schiene Academy col patrocinio del Comune di Sciacca e con la partecipazione della Futuris, dell'Avis e della Proloco Sciacca Terme e dell'Aulino Editore. Una rassegna che vede la direzione artistica di Franco Bruno è quella musicale di Ignazio Catanzaro che ieri sera scandiva ai momenti della lettura al pianoforte accompagnato al violoncello da Calogiro Marotta. Protagonista del primo momento è stata la figura di Francesca Morvillo, morta a Capaci il 23 maggio del 1992 nell'attentato contro il marito Giovanni Falcone nel quale morirono anche gli agenti di scorta del magistrato antimafia. Annarita Maretta e Franco Bruno hanno letto un testo scritto da Cetta Brancato dal titolo Canto per Francesca. Fuori c'era Palermo una volta e i suoi confini dalle larghe braccia di montagne azzurrissime che ne proteggono una bellezza mistica e volgare. Solo Palermo odora di pesce di incenso e del tanfo duro del potere e sirene tante. Voci come di lupo sulle ampie strade che instancabilmente si incrociano come labirinti o trappole inondati dal sole di Sicilia. Un testo molto suggestivo che ha richiamato un momento di riflessione ampio che si è inserito nella giornata in cui si commemorava il 29esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Il secondo appuntamento con le parole che non ti ho letto è in programma domani, sempre all'interno dell'Atero Superiore del Comune, stavolta con la lettura drammatizzata del testo dal titolo Dan Le Noir, scritto da Giacomo Guernieri. Ambiente, area summer mini campus Marevivo, il progetto del Don Michele Arena di Sciacca e della delegazione regionale Sicilia Marevivo che si è concluso sabato scorso con l'obiettivo di educare ai giovani al rispetto dell'ambiente attraverso escursioni luoghi suggestivi del territorio. A Siculiana Marina invece al via il progetto rispetto l'ambiente. Vediamo. Rispetto e scoperta di paesaggi e luoghi ancora non devastati dalla mano dell'uomo è stato questo l'obiettivo di due iniziative che si sono svolte nel fine settimana. Sabato scorso si è concluso il progetto inclusivo denominato Arena Summer mini campus Marevivo 2021 organizzato nel contesto del piano scuola estate del Don Michele Arena di Sciacca in collaborazione con la delegazione regionale Sicilia di Marevivo. Il progetto è coinvolto un gruppo di alunni disabili e non in una settimana in cui si sono alternati momenti di educazione ambientale e momenti sportivi attraverso escursioni a piedi, in canoe, mountain bike, con spazio anche agli sport da spiaggia. Le attività si sono svolte nell'area dell'Oasi Marevivo di Eracle Amino a Bovo Marine e sono state curate dagli educatori ambientali supportati dai tutor del progetto. Un'iniziativa che mette in risalto come l'educazione ambientale e la formazione scolastica non siano circoscritte al solo periodo scolastico ma possono andare oltre i normali limiti temporali dello stesso attuando un mix tra formazione e divertimento ideali nel periodo estivo. A Siculiana Marina è partito anche il progetto Rispetto l'ambiente con raccolta dei rifiuti due volte al giorno, isole ecologiche in spiaggia e anche un kit per la raccolta differenziata che sarà consegnato a bagnanti e turisti. In campo anche sette giovani operatori per la sensibilizzazione ambientale. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale in collaborazione con la Bovo Marina Torre Salsa Ambiente, la società in house che gestisce il servizio integrato dei rifiuti a Montallegro e a Siculiana. Il kit per la raccolta differenziata in spiaggia spiega il sindaco Peppe Zambito e tra le iniziative che stiamo promuovendo per favorire la rinascita del borgo marinaro di Siculiana Marina e che stiamo migliorando anche con diversi interventi di riqualificazione per il decoro urbano. Quello di consentire la raccolta differenziata in spiaggia è sicuramente una di quelle iniziative che tendono a migliorare il nostro borgo che ha una lunga storia e che vuole tornare ad essere protagonista della costa agrigentina. Se gli lasci non vale il nostro motto. Stiamo investendo molto sulla sensibilizzazione ambientale non solo a Siculiana Marina ma su tutto il territorio anche attraverso l'ausilio di telecamere perché non consentiremo più a nessuno di abbandonare i rifiuti, conclude il sindaco. Adesso spazio alla Mondadori. Il male che si accanisce contro Giobbe non può più essere concepito come una punizione poiché egli non ha commesso alcun delitto. Non può più essere una vendetta poiché egli non ha colpito nessuno. Nel trovarsi esposto alla violenza insensata della sofferenza Giobbe si trova immerso in un'esperienza intraducibile. Il grido di Giobbe accade quando le parole sono costrette al silenzio spezzate dal trauma del male. Esso non è indice di rassegnazione ma di lotta e di resistenza. Dopo la notte del Gezzemani e il gesto di Caino con il grido di Giobbe continua l'intenso e sorprendente viaggio di Massimo Recalcati, lettore della Bibbia, impegnato a rintracciare l'eredità più profonda del pensiero psicoanalitico che si concluderà a breve con un'ampia e attesa opera. Il grido di Giobbe di Massimo Recalcati, edito e in Audi. L'Unitas Shack Calcio ha organizzato stage per giovani aspiranti calciatori che andranno a comporre le formazioni che con i colori nero-verdi affronteranno i vari tornei giovanili. Venerdì 23 e sabato 24 luglio dalle 17 alle 19 presso l'impianto Isabella Sport si svolgeranno le selezioni per reclutare i giovani leve che parteciperanno ai vari campionati. La selezione sarà diretta da Vincenzo Piazza, coordinatore tecnico e amministrativo del settore giovanile dell'Unitas Shack. Lo stesso Piazza durante la stagione agonistica guiderà la squadra giovanissimi con la collaborazione di Saverio Guardino, mentre le squadre che parteciperanno agli altri campionati sono state affidate rispettivamente ad Antonio Abbene che usufruirà della collaborazione di Vincenzo Coco e Salvo Crivello. La società Unitas Shack per la prima volta sta promuovendo e organizzando in proprio il settore giovanile impegnandosi a fornire ai giovani calciatori tutte le opportunità per avvicinarsi alla prima squadra e provare l'emozione di indussare la maglia nero-verde. Era l'ultima notizia, siamo in chiusura, vi ringrazio per essere rimasti con noi e vi rinnovo l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni per tutti gli aggiornamenti. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.